Jeep Compass e Hybrid è la risposta per chi desidera un'auto che combina un propulsore in grado di muoversi prevalentemente in elettrico. Grazie ad un sistema di propulsione ibrido 48 volt che si autoricarica costantemente, ha un motore endotermico di nuova generazione turbo FWD da 130 CV. La soluzione scelta per questa versione di Compass è basata quindi sull'abbinamento di un nuovo motore benzina 1,5 litri T4 turbo. Da 130 CV evoluzione della famiglia Global Small Engine progettato per le applicazioni ibride, con una nuova trasmissione automatica. Doppia frizione a 7 rapporti che integra un motore elettrico 48 volt da 15 kHz. Questo motore 1,5 litri 4 cilindri turbo si distingue anche per un sistema di combustione che lavora per ottenere il migliore equilibrio fra potenza specifica ed efficienza l'arrivo della Compass EO Hybrid comporta, a parità di equipaggiamento, un risparmio di oltre 7000 euro rispetto alle sorelle 4 cilindri. La differenza di prezzo è dovuta al fatto che si tratta di un modello ibrido leggero, classificabile come Mild Hybrid secondo i criteri attuali, ma anche con dinamicità Full Hybrid, dal momento che ha la possibilità di muoversi in modalità solo elettrica, anche se per brevi tratti. Jeep Compass EO Hybrid, solo trazione anteriore. A differenza della Compass 4 XE, la Jeep Compass EO Hybrid ha solo la trazione anteriore e la batteria da 0,8 KWH a 48 volt viene ricaricata dal sistema di recupero dell'energia in decelerazione e non richiede l'allacciamento alla rete. Altra caratteristica di spicco nella Jeep Compass EO Hybrid è proprio il cambio ibrido, cioè una trasmissione automatica a 7 rapporti, a doppia frizione in bagno d'olio, progettata per fornire efficienza e rapidità d'attuazione e, di conseguenza, per migliorare consumi, dinamica e piacevolezza di guida. Inoltre, con il sistema integrato Silent Start la nuova Jeep si muove senza avviare il motore termico e nel totale silenzio. Altra modalità EO che si attiva automaticamente è la decelerazione, quando viene recuperata energia grazie alla modalità E-Costing, che entra in funzione rilasciando il pedale dell'acceleratore. E il prezzo? Il listino della Jeep Renegade Hybrid parte da 32.200 euro. E-Costing, che entra in funzione rilasciando il pedale dell'acceleratore. E-Costing, che entra in funzione rilasciando il pedale dell'acceleratore.